questo era che cercavo e questo è quello che andava giù nella... ti riguardi quella rongi... minchia quell'albero questo qua è il suo appoggiato così e basta questo è quello che andava lei ma c'è i rovi arrivava giù nella rongetta giù sotto questo qua c'era dentro una bella zonetta anche qua e qua però ci siamo persi e lì Grazie a tutti. 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 E' tutti sporci. Vedi? Parti da qua e dopo andavi su. Buongiorno. 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 Ciao, ciao, ciao Ciao